Noi abbiamo sentito l'esigenza di fare la legge sulla memoria perché venivamo da un percorso lungo come regione che aveva già diversi strumenti legislativi, in parte finanziati, in parte non finanziati, però veniva dal momento che si appressavano altre scadenze, la ricorrenza prima guerra mondiale, i 70 anni della resistenza, i 20 anni dalla strage di Ustica, si sommavano le richieste di ulteriori leggi o leggine dedicate a questi appuntamenti. Abbiamo sentito l'esigenza, ormai siamo a, quando abbiamo iniziato a parlarne, a quasi 15 anni dalla fine del secolo scorso, abbiamo ritenuto ci fossero anche i tempi, per vedere ancora con sufficiente distacco, non certamente completo, ma sufficiente distacco quegli anni, quegli anni anche travagliati, duri del Novecento, che hanno segnato la storia di questo paese e anche di questa regione. Quindi dalla nascita dei primi ospedali, o meglio lo sviluppo degli ospedali in coincidenza con la prima guerra mondiale, perché questa era una retrovia in cui venivano ospitati i soldati feriti dalla prima guerra mondiale, e quindi si è sviluppato il sistema sanitario pubblico proprio in quell'occasione, passando per il ventennio fascista che ha dato i Natali qui a Mussolini, in questa regione, poi il dopoguerra, il duro dopoguerra, la resistenza, la rinascita della democrazia del nostro paese, quindi la ricostruzione di cui l'Emilia Romagna è stata protagonista con un suo modello particolare, fino agli anni duri dello stragismo e del terrorismo che hanno colpito duramente anche questa regione. Quindi abbiamo pensato che fosse necessario anche costruire, anche dal punto normativo, legislativo, un filo di connessione, una concatenazione di eventi che non possono essere letti gli uni in maniera separata dagli altri, e quindi avere uno strumento che ci consentisse la valorizzazione di un lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, penso in particolare dagli istituti storici, ma non solo dagli istituti storici, anche da tanti altri soggetti che noi abbiamo in questa regione, la fondazione Fossoli, la fondazione Villa Emma, la fondazione Fratelli Cervi. Noi come regione più che altro agiamo da promoter, da sostegno e promoter, non siamo noi che scriviamo la storia ovviamente, ma lasciamo e deleghiamo questo compito a chi lo sa fare, a chi ha le competenze per farlo, e quindi abbiamo pensato bene di riordinare anche un rapporto con tutta questa rete di istituti e di soggetti attraverso la legge che consentisse a noi di avere un rapporto organico con l'intera rete, sostenere questa rete soprattutto dopo il venire meno delle province che avevano un ruolo fondamentale e contemporaneamente implementarlo anche questo lavoro con altri soggetti che eventualmente possono venire avanti e possono accreditarsi e candidarsi a fare un lavoro che è fondamentalmente di archiviazione, documentazione, conservazione, ma anche e soprattutto di divulgazione, in particolare divulgazione verso le nuove generazioni, quindi un rapporto stretto anche con le università e con le scuole che consente di andare in questa direzione. Questa legge è nata dopo leggi di altre fatte anche da altre regioni, anche per questo abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di poter vedere anche le esperienze positive, ciò che andava e ciò che non andava di quelle leggi e quindi trarne anche insegnamento da quelle esperienze e fare una legge e soprattutto quello che più mi è stato a cuore è un percorso partecipato perché l'abbiamo costruita insieme ai soggetti che saranno non solo fruitori ma anche protagonisti di questa nuova legge e quindi insieme a loro abbiamo passo passo costruito quello che era l'architettura legislativa che ci ha consentito di razionalizzare tutte le leggi preesistenti, riportarle all'interno di questa e soprattutto guardare con una prospettiva nuova, in particolare grazie anche a un impegno finanziario che la regione non ha aggiunta ha voluto mettere in questa direzione. Prima abbiamo appunto diverse leggi non finanziate, con questa unica legge abbiamo fatto un finanziamento che per i primi due anni è un milione all'anno, vedremo di proseguire in questa direzione anche dopo. Ora abbiamo fatto il primo anno, adesso vediamo successivamente come si svilupperà.